Io ritengo che quello che hanno illustrato i miei avvocati, a cui colgo l'occasione di esternare il mio ringraziamento non solo tecnico ma anche personale umano, continuerò il percorso, un percorso che è iniziato con l'autosospensione che io mi sono imposto nel momento in cui è stata votata la mia decadenza da consigliere comunale, perché è un percorso a tappe, le cui prime vi abbiamo già illustrato, che devono portare alla definitiva chiarificazione della mia posizione e al rientro in consiglio comunale. Quindi il mio obiettivo è rientrare in consiglio comunale, lo farò attraverso i fatti, come ho chiarito la questione Bollettopoli, come ho chiarito la questione Merakon, chiarirò anche la questione sulla mia decadenza. Approfitto dell'occasione per esternare il mio ringraziamento al sindaco, al consiglio comunale e al presidente del consiglio comunale per la sobrietà con la quale hanno affrontato una delicata questione, che io avrei affrontato diversamente, ma questa è una sensibilità assolutamente personale e soggettiva. Vorrei concludere questa mia breve intervista dicendomi che io perseguo la ricerca della verità. La perseguo perché la verità vive molto più a lungo delle bugie.